Benvenuti a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione del DDL 735 sulla riforma dell'affido condiviso. Come sapete già i giornali ne parlano da tempo, tant'è che siamo rimasti in dubbio se procedere con la conferenza stampa o procedere direttamente con i lavori, ma siccome i giornali ne parlano da tempo e non sempre ne parlano in modo chiaro, completo, esaustivo e corretto, allora abbiamo ritenuto indispensabile che ci fosse un incontro con la stampa e con gli invitati che sono in questa sala per dare un attimo di diffusione a quelli che sono i reali contenuti del DDL. Questo disegno di legge nasce da una esigenza che crediamo sia imprescindibile e cioè fare in modo che il conflitto familiare non arrivi in tribunale. Si cerchi cioè di fare in modo che le famiglie e soprattutto i papà e le mamme raggiungano un accordo sulla gestione dei minori prima di arrivare al tribunale. Questo è il senso profondo del DDL che ha quindi posto la de giurisdizionalizzazione, che è una parola bruttissima che capiscono solo gli avvocati, i magistrati e i tecnici, ma che è una parola virtuosa. La de giurisdizionalizzazione è posta al primissimo punto del DDL, tant'è che come sapete la relazione comincia proprio con questa finalità. Il DDL ha quindi in animo di superare o di aiutare i coniugi o i genitori più in generale a superare le contraddizioni, le tensioni, le inevitabili conflittualità che scaturiscono dalla separazione, dalla crisi della coppia, facendo sì che per i bambini il più possibile non cambi niente. Cioè vogliamo che il continuum genitoriale, ricordo che i genitori sia per sempre, e questo non perché l'ha deciso il Parlamento, ma perché l'ha deciso la naturalità delle cose e la naturalità delle relazioni. C'è bisogno di parlare di naturalità delle relazioni in questo tempo in cui le relazioni sono costruite artificialmente. Allora dicevo, dobbiamo fare in modo che questa conflittualità non incida sulla vita quotidiana dei bambini, che hanno tutto il diritto di continuare a vivere come prima. Questo è un po' il senso. Quindi lo scopo della legge è non mandare le parti in tribunale, fare di tutto perché la decisione del giudice sia solo un controllo ovviamente residuale quando ci siano evidenti conflitti con l'interesse del minore, oppure sia una decisione ultima speranza dopo aver tentato tutte le strade possibili. Questo è il senso della mediazione familiare. La mediazione familiare è la strada che vogliamo proporre alle coppie italiane che non sono in grado di trovare da sole un accordo. È bene precisare tutto questo. Le coppie che da sole riescono a trovare un accordo non devono passare dal mediatore familiare, ma per le coppie con alta conflittualità il passaggio dal mediatore vuole essere un tentativo, un aiuto, un supporto per tentare di evitare la strada giudiziaria. Ho letto in questo periodo che qualcuno dice questo DDL aumenterà i costi perché prevede queste figure ulteriori. Intanto io sono convinto che una mediazione, soprattutto se fatta bene, fatta da un mediatore bravo, preparato, esperto, qualificato professionalmente, faccia risparmiare tantissimo denaro perché una mediazione fatta bene evita la causa e la causa sappiamo che costa moltissimo in termini economici. Ma quello che ci interessa ancora di più non è il costo economico della causa è il costo sociale per i bambini perché sappiamo che attorno a una causa si crea una conflittualità che si radica sempre di più, che riemerge quando ci sono passaggi processuali importanti, che riemerge quando il minore viene sentito, che riemerge quando vengono sentiti i testimoni e che rende la vita dei minori davvero complicata. Allora dobbiamo cercare di evitare tutto questo. Ecco il mediatore familiare come primo step. Ovviamente il primo incontro con il mediatore familiare sarà gratuito e il mediatore familiare avrà tariffe professionali rigide fissate dal Ministero della Giustizia con un proprio decreto in modo che nessuno si improvvisi mediatore familiare e soprattutto nessuno tenti di approfittare della crisi della famiglia per fare cassetto. Questo non lo permetteremo. Dopodiché arriviamo alla gestione dei minori che è il cuore di questo progetto di legge. La gestione dei minori sarà affidata a un piano genitoriale oppure un piano educativo, chiamiamolo come vogliamo, sostanzialmente è quello che ogni famiglia costruisce naturalmente nell'incontro della volontà del papà e della mamma che via via si integra con quella del minore, man mano il minore cresce. Questo che nelle coppie che stanno insieme è frutto di incontri, qualche volta di scontri, qualche volta di litigate ma poi comunque si arriva a una volontà condivisa, nelle coppie separate è molto difficile. Allora per semplificare questo passaggio e aiutare le due volontà a incontrarsi abbiamo mutuato dall'esperienza estera il piano genitoriale. Il piano genitoriale che è già obbligatorio in paesi come il Canada, l'Olanda e in altri paesi dell'Europa e dell'Occidente è sostanzialmente un documento scritto costruito da entrambi i genitori in cui si descrive la volontà educativa sui figli, la loro vita, come si vorrebbe che fosse, come si vorrebbe costruire la loro educazione, i loro passaggi quotidiani, la loro frequentazione con i parenti, la loro scolarità, la loro formazione e quant'altro. Da questo a cascata deriva la suddivisione dei costi. I costi nella separazione oggi vengono sostanzialmente suddivisi attraverso il cosiddetto assegno di contributo al mantenimento del minore. L'assegno di contributo al mantenimento del minore è tuttavia una forma residuale, già oggi la legge prevede che la forma principale del mantenimento del minore dovrebbe essere il mantenimento diretto da parte dei due genitori, però non viene applicato tutto questo e si prevede la formulazione dell'assegno come fosse la panacea. Non è la panacea, sappiamo che dietro all'assegno purtroppo si agita il conflitto intergenitoriale, sappiamo che dietro all'assegno si nasconde la volontà di prevalsa dell'uno oppure dell'altro, quindi dobbiamo disinnescare questa criticità utilizzando lo strumento del mantenimento diretto. Come funzionerà il mantenimento diretto? Ho letto tutto e il contrario di tutto, sui giornali qualcuno ha scritto cose sbagliate in buona fede, qualcuno ha scritto cose sbagliate in mala fede. Il mantenimento diretto non sarà 50-50, non sarà 50% per ciascuno, la norma prevede chiaramente che il mantenimento diretto sia su capitoli di spesa divisi su base proporzionale, quindi il genitore che guadagna di più contribuirà di più e ci mancherebbe che fosse il contrario, però il genitore che guadagna di più contribuendo di più saprà che ogni euro che spende sarà speso per il figlio e non sarà speso per l'altro ex coniuge o ex compagno. Dopodiché se si tratta di un regime matrimoniale ovviamente il regime matrimoniale prevederà in ogni caso la forma dell'assegno di mantenimento per l'altro coniuge, ma non è oggetto di questa proposta di legge, quindi le relazioni interconiugali o intergenitoriali interessano in questa proposta di legge solo se hanno influenza diretta sulla vita del minore. Quindi mantenimento diretto, capitoli di spesa, suddivisione su base proporzionale in capo a ciascuno dei due genitori. L'ultimo step, sono i quattro punti del contratto di governo, sarà quello della lotta all'alienazione, su questo pure ho letto tutto il contrario di tutto, voglio essere chiaro, questo progetto di legge non è un progetto di legge che vuole entrare nel dibattito tra femministe, contro femministe, maschilisti e contromaschilisti. Qui non si fanno né gli interessi dei padri né gli interessi delle madri, qua si fanno gli interessi dei bambini e questi vengono messi al primo posto. Quindi chiamatela come volete, alienazione, non vi piace perché la PAS non esiste, bene, chiamatela estraneazione, non vi piace neanche quello, bene, chiamatelo rifiuto genitoriale. Io sto parlando di un fenomeno concreto che si verifica purtroppo, ahimè, in molti casi, in cui i padri o le madri vengono rifiutati da uno dei figli per ragioni le più diverse, in alcuni casi vengono palesemente alienati dalla condotta di uno dei due che fa pressioni psicologiche sul minore. In altri casi si alienano naturalmente perché semplicemente vengono imbevuti di quel veleno che i due genitori si sono scambiati, ahimè, magari con le loro liti discussioni davanti ai figli. La cosa peggiore che un genitore possa fare è distruggere la figura genitoriale dell'altro agli occhi dei figli. Significa renderlo orfano di genitore vivente. Noi non possiamo permettere che queste condotte persistano. Quindi abbiamo previsto sanzioni molto serie che arrivano fino al risarcimento del danno e fino alla perdita della responsabilità genitoriale qualora si verifichino condotte consibili. Qualche ulteriore precisazione. Siccome qui abbiamo numeri molto importanti che vengono da calcoli fatti dall'Istat, quindi numeri ufficiali che abbiamo posto alla base del nostro agire politico, abbiamo allegato al comunicato stampa che uscirà al termine della conferenza stampa anche alcuni grafici costruiti dall'ufficio Istat. Allora abbiamo che per esempio il numero dei figli coinvolti nelle separazioni e nei divorzi ammonta, dato del 2015, a circa 100.000 ogni anno. Quindi stiamo parlando di numeri importantissimi. Abbiamo casi di affidamento esclusivamente alla madre o esclusivamente al padre che sono molto ridotti. L'affido condiviso è nell'ordine del 90%, ma se poi andiamo a leggere i tempi di frequentazione scopriamo che i tempi di frequentazione sono ahimè sbilanciati in modo molto sensibile verso uno dei genitori. Quale che sia, padre o madre, non ci interessa, ma questa è un'ingiustizia alla quale dobbiamo assolutamente porre un limite. Ancora, la assegnazione della casa familiare, anche questa ho letto essere oggetto di grandissima polemica, è intanto dato Istat nel 60% dei casi assegnata alla moglie, nel 19,2% dei casi assegnata al marito. Voi capite che solo leggendo questo numero possiamo comprendere che ci sia oggi una concreta e seria disparità. Detto questo, come pensiamo di risolvere la questione dell'assegnazione della casa, semplicemente superandola. La casa familiare deve seguire le regole del diritto civile, quindi manterrà la proprietà in capo al proprietario e solo in casi residuali il giudice, qualora la situazione non permetta altra scelta, dovrà prevedere che chi abita in quella casa permanga ad abitare lì anche se non è il proprietario, ma sarà comunque necessario che la persona che resta ad abitare nella casa familiare non essendone proprietario paghi un affitto, paghi un normale canone di locazione al proprietario. Qui si grida allo scandalo da parte di Taluni dicendo che in questo modo le madri verranno tutte sfrattate. Non è così, non è così, perché in primo luogo, come vi ho detto, c'è questa norma di chiusura che permette di valutare caso per caso, ma ciò che è più importante è che la questione della casa familiare non può essere collegata al collocamento del minore, perché diversamente questo diventa motivo ulteriore di conflitto. Dobbiamo quindi separare la questione genitorialità dalla questione casa. Tra l'altro la questione casa viene risolta nel momento in cui noi parliamo dei tempi paritetici di frequentazione. Allora anche qui la polemica vuole sorgere dicendo che i tempi paritetici significano trasformare i figli in pacchi postali. Rispondiamo subito a questo che è una vexata a questi utilizzata ormai da vent'anni. I nostri figli svolgono quotidianamente attività le più disparate, dal nuoto alla danza, al catechismo, al corso di teatro, al corso di inglese. Durante l'estate vanno a fare corsi di approfondimento in Inghilterra oppure ovunque. Sono sostanzialmente fuori tutti i pomeriggi, ma se vanno dal papà o se vanno dalla mamma allora sono pacchi postali. Non è questa la dinamica che ci interessa. Noi dobbiamo garantire tempi sufficienti a entrambi i genitori per poter educare entrambi la prole. Ho qui accanto a me Ernesto Emanuele che ha fatto per anni la battaglia dal titolo educare in due. Per educare in due sono necessari tempi adeguati, non si può educare via Skype, non si può educare via telefono. Quindi questa legge prevede tempi paritetici. Significa, tradotto, che non ci saranno in ogni caso automatismi perché le parti potranno decidere liberamente di meglio adattare i tempi del minore alle esigenze della famiglia. Ma che se non si troverà un accordo da parte dei genitori il giudice non potrà più decidere tra padre e madre. Come il bambino non potrà più essere, non dovrà più essere costretto a scegliere tra il papà e la mamma. Il bambino deve essere libero di stare con entrambi i genitori. La questione è stata ampiamente trattata dall'Assemblea europea dei parlamentari e c'è una decisione, una risoluzione che è molto importante e che è stata emanata, pensate, nel 2015, quindi tre anni fa. Questa risoluzione è la numero 2079 del 2015 nella quale è detto con chiarezza che è necessaria una eguaglianza nella divisione della responsabilità genitoriale. Qui si parla chiaramente di mediazione come strada per risolvere i complitti, qui si parla chiaramente di piano genitoriale come modalità operativa per incontrare la volontà delle parti, si parla di mantenimento diretto e si parla di tempi paritari. Ce lo chiede l'Europa per una volta, è vero, ce lo chiede davvero l'Europa. Questo senza considerare le innumerevoli condanne che il nostro Paese ha ricevuto da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per la alienazione parentale. Nel frattempo è arrivato anche il Presidente Romeo che salutiamo, grazie Max, ben arrivato. Ben arrivato, stavamo facendo un'esposizione della norma, quindi non possiamo più permetterci che il nostro Paese venga condannato perché i casi di alienazione parentale non vengono trattati o vengono lasciati così alla simpatia del giudice o alla simpatia dei servizi sociali. Non possiamo più permetterci che i nostri figli nell'80-90% dei casi perdano la relazione significativa con uno dei genitori. Abbiamo qui in sala Maria Bisegna che è l'associazione dei nonni. Noi dobbiamo fare in modo che sia rispettato anche il diritto dei bambini a stare con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali. Quindi in questa norma prevederemo un meccanismo per cui i nonni possano intervenire qualora sia necessario difendere il diritto, non dei nonni, non ci interessa il diritto dei nonni, ma il diritto dei bambini sì, a stare anche con la nonna e con il nonno. E allora in questo senso, non certo per rinfocolare la tensione tra i due che già non hanno bisogno di ulteriori rinfocolamenti, ma per sostenere il diritto del bambino che fosse eventualmente messo in pericolo tra condotte di uno dei due, questo sì. Io mi avvio alla conclusione ma vi voglio leggere due documenti. Il primo, siccome vorrei davvero che si arrivasse a un accordo il più possibile ampio in termini di compartecipazione delle forze politiche a questo DDL, vi leggo un documento che è stato approvato da un comune italiano e poi vi dirò che comune è, che fa riferimento all'approvazione del registro comunale della bigenitorialità e fa riferimento all'articolo 18,1 della Convenzione ONU sui diritti per l'infanzia, che ricordo è stata ratificata dall'Italia con la legge 7691. E dice, gli stati parte faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo, allevare è bruttissimo, crescere, allevare sembra che sia un manzo, e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se nel caso, ai tutori legali, i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse premimente del fanciullo. Dopo queste dotte premesse, questo comune approva il registro comunale della bigenitorialità, in quanto dice che elimina la simmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista. Perfetto. Questo qua è il comune di Bologna. Quindi io credo che sia possibile da parte di tutte le forze politiche, anche quelle lontane dalla coalizione di governo, di dare un contributo fattivo, coerente e però non distruttivo nell'interesse dei minori. Vi leggo poi, ho ricevuto tantissime email, potrei raccontare molte storie, ma abbiamo qua dei testimoni diretti, quindi non ha senso che tolga loro il tempo, ma ho ricevuto una mail che mi interessa molto leggervi. Egregio senatore, leggo di questa pregevole iniziativa relativa ad approfondire e rivedere alcune norme che regolamentano la disciplina dell'affido condiviso e della mediazione familiare. Il mio motto è genitori non si nasce, si diventa e si dovrebbe rimanere e, conclude dicendo, sono responsabile nel Partito Democratico per le politiche sociali di una provincia italiana. Non vi dirò quale. Questo per dire che si può davvero fare un lavoro condiviso. Certo, se non ci facciamo prendere dalle ideologie. Noi da parte nostra non toccheremo minimamente questo tasto e voglio su questo rassicurare, non è in gioco la questione della violenza endofamiliare. Questo DDL esclude radicalmente l'applicabilità nei casi di violenza, ma equipara alla violenza anche la falsa denuncia per violenza. Perché per un bambino tanto è violenza vedere la mamma o il papà percossi, quanto è violenza vedere la figura genitoriale disintegrata dalle calunnie del genitore. Quindi questo è il nostro contributo. Noi, voglio essere anche chiaro, abbiamo scritto questo DDL in conseguenza del patto di governo, mi è stato assegnato dal mio partito in virtù della mia personale esperienza quasi ventennale nella materia del diritto di famiglia e come relatore a tutti i livelli su questo tema. Non è frutto, lo devo dire perché la mia persona è anche molto spesso avvicinata all'esperienza del Family Day con la quale tuttora ho il piacere di condividere una collaborazione molto stretta, ma questo DDL non è frutto di quella esperienza. Anche se ovviamente con il mondo del Family Day ci confronteremo e non solo con il mondo del Family Day ma con ogni mondo, con ogni realtà, quindi sia professionale, sia formativa, sia con ogni realtà politica o associativa che voglia dare un contributo. Questa ossatura del DDL oggi verrà portata in Commissione Giustizia e comincerà l'Iter. Immediatamente dopo faremo i passaggi necessari per le audizioni e saremo lieti di ascoltare e di collaborare con tutti. Non permetteremo a nessuno di buttare sul terreno ideologico questo DDL, non permetteremo a nessuno di sradicare i quattro punti che sono contenuti nel patto di governo. Sul resto siamo disponibili a tutti i livelli anche perché una cosa così delicata e così complessa merita i necessari approfondimenti che siano sotto la forma di contributi leali a conseguimento di un bene comune. Io intanto mi fermo qua, vi ringrazio e lascio la parola in primo luogo alla rappresentanza istituzionale, quindi al Presidente del gruppo Massimiliano Romeo, poi al Senatore Emanuele Pellegrini che insieme a me in Commissione ha lavorato per la stesura del testo e lavorerà per la sua ottimizzazione e poi ai nostri ospiti cominciando dall'amico Tiberio Timperi che so che poi deve scappare perché ha impegni pressanti. Grazie a tutti, la parola al Presidente Romero. Mi sentite? Sì. Tanto grazie, grazie al Senatore Pilon. Intanto mi scuso ancora per il ritardo. Volevo solo sottolineare una questione che mi sta particolarmente a cuore, nel senso che poi evito di dire tutte le questioni tecniche che sono già state espresse, vengono espresse sia dal Senatore Pilon che dal Senatore Pellegrini, da altri. Volevo solamente porre l'accento sul fatto che tutte le volte che la Lega fa una proposta di legge purtroppo succede sempre che c'è qualcuno che va a mistificare la realtà. E questo è quello che è successo con il Corriere della Sera di oggi, che apre, mi sono segnato proprio il titolo, dicendo in Senato la proposta per cancellare l'assegno di mantenimento. È chiaro che è, come si può dire, una sorta di terrorismo psicologico che viene fatto, magari per cercare di dare là qualche manifestazione di qualche donna che non ha capito, o non ha letto e non ha capito il disegno di legge, oppure, ahimè, penso che possa essere in malafede perché questa proposta di legge non va assolutamente a toccare quello che è il rapporto tra i coniugi, ma invece va a modificare quello che è il rapporto tra i coniugi e i figli. Quindi sono due cose completamente diverse. Quindi invito tutti i giornalisti e la stampa che vogliono fare gli scoop a leggere prima i documenti ed evitare di mistificare la realtà che ormai sta diventando un elemento ormai classico nel pensiero unico dominante, ma a cui noi assolutamente vogliamo, cioè continuiamo il contrasto, questo è evidente, però se vogliamo dire la realtà e dire verità a tutti quanti, mi sembra che il principio sia questo, perché l'assegno di mantenimento per i figli, per i figli, sia chiaro, è ovvio che aveva un suo senso, una sua natura giuridica dal fatto che la maggior parte del tempo i figli lo passavano con la mamma. Questo era il principio chiaro. Nel momento in cui la proposta di legge vuole invece fare in modo che il papà e la mamma passino il più possibile, certo ci vuole un accordo, questo è evidente, lo stesso tempo, è chiaro che a questo punto le spese vengono divise a metà tra il papà e la mamma. È un concetto così chiaro, così semplice, così naturale, che secondo me solo chi è malafede non lo vuole capire o non lo vuole comprendere, o chi vuole invece mistificare la realtà. Quindi invito veramente un po' tutta la stampa a leggere e ad approfondire l'argomentazione. Dopodiché il messaggio principale è chiaro, la Lega da tempo lo dice e batte, pone l'accento sul diritto dei bambini e dei figli di avere una mamma e un papà. E questo deve avvenire, proprio perché entri possono dare la spinta vitale necessaria per poter crescere in maniera giusta e corretta, e questo deve avvenire anche, lo dico ai me, questo è evidente, quando ci troviamo di fronte a una famiglia e a due genitori che si separano. Quindi restituiamo i figli ai loro genitori, questo è il messaggio principale. Poi la cosa che a me piace molto è che in questo disegno di legge, in questa proposta di legge ovviamente, che può essere migliorata, modificata, ci possono essere tutti gli accorgimenti necessari, però che c'è anche la figura dell'accompagnamento da parte dei nonni, che sono una figura che hanno stato un po' nel corso del tempo un po' sottovalutata, ma che invece noi reputiamo essere una figura fondamentale per la crescita dei figli, perché io i nonni me li ricordo benissimo e ricordo benissimo la loro funzione educativa che hanno fatto nei miei confronti e nei confronti ovviamente di tutti quanti. Quindi il fatto che possano partecipare a questo possibile accordo, ovviamente laddove l'accordo è fattibile, è evidente, mi sembra davvero che vada verso una direzione di una proposta di carattere rivoluzionario. Con questo ho finito e vi ringrazio. Grazie al Presidente Romeo. Grazie al Presidente Romeo. La parola ora al Senatore Emanuele Pellegrini, Senatore e Avvocato. Buongiorno a tutti. Io quando venendo qua questa mattina pensavo cosa dico oggi? Io ho accettato, anzi ho richiesto a Simone di dare una mano sul lavoro di questo DDL per tre ragioni. Io sono, come giustamente ricordava il Senatore Pillon, sono Avvocato e voglio portare la mia esperienza pratica che vedo tutti i giorni nei tribunali facendo molto diritto di famiglia e vedendo nei tribunali che ho avuto modo di frequentare in materia di separazione, di divorzi, di affidamento minorile, mi sono detto è ora di mettersi, rimboccarsi le maniche e eliminare tutte quelle che sono le storture che nelle udienze vediamo giornalmente. giornalmente purtroppo una legge che non è attuata e alla fine, come giustamente è stato ricordato poco fa, chi ci fa le spese sono sempre i bambini. Io è una cosa che non ho mai sopportato nell'esperienza, ormai sono più di dieci anni che frequento le aule di tribunale e non ho mai sopportato di vedere strumentalizzati i minori, i bambini, semplicemente per trovare una scusa su un assegno, su un'assegnazione. È una cosa profondamente ingiusta ed è una cosa che va a minare quelli che sono i diritti di tutti i cittadini e in particolare quello, ripeto, come già stato detto poco fa, quello di essere genitori, di poter fare il papà e di poter fare la mamma. Perché è una cosa che è stata, è molto importante. Qui non è una legge che andiamo a portare avanti per la mamma o per il papà. Questo è molto importante. La parità di diritti per tutti. Quindi questo è il primo motivo per cui io, nel mio ruolo politico che rivesto, è il motivo per cui io voglio spendermi e dare una mano affinché questo DDL diventi legge e possa spendere i propri effetti in ogni aula di tribunale e in fin dei conti in ogni famiglia, in ogni rapporto genitore-figli. Il secondo motivo per cui ho voluto sottoscrivere questo DDL e dare tutto il sostegno per portarlo avanti è il fatto di essere papà. Io sono papà di un bambino di 5 anni e il solo pensiero di potermi trovare, spero mai, davanti a un tribunale che possa vedere mio figlio la merce di scambio per pretese di vario titolo, economiche o non economiche, è una cosa che mi fa ribrezzo. Ed è una cosa che noi dobbiamo combattere fin nell'intimità di ognuno di noi. Quindi questo è forse il motivo più importante per cui mi ha spinto a metterci la faccia. Io non voglio dare adito alle varie polemiche che ci sono giustamente richiamate sui vari giornali, sia dal punto di vista locale che dal punto di vista nazionale. Non mi interessa. Noi andiamo avanti per una strada che è quella della parità dei diritti, genitori, figli. Questa è la cosa più importante. E poi l'ultimo, ma non è l'ultimo, motivo per cui ho voluto metterci la faccia è per un amico. Faccio una leggera digressione personale, me lo perdonerete. Un amico che è venuto a mancare pochi mesi fa, poco prima delle elezioni, che ha sempre dato una mano da papà separato, ha sempre voluto dare una mano ai genitori separati, ai genitori che vivevano una separazione, un divorzio, che vivevano il loro rapporto con i propri figli, lesionato, colpito dai vari tribunali, dai vari magistrati che magari non riuscivano ad approfondire, perché la legge non glielo permetteva, quella che era la loro difficoltà. Ed è per questo che io ci tenevo, glielo ho detto al senatore Pillon, ho chiesto di poter dedicare quello che sarà il mio sforzo, al di là di quello che sono tutti i genitori e tutti i bambini a cui dobbiamo dare una mano, lo dedicherò a Renato, a Renato Aprile. Ho qua davanti una sua foto, era un caro amico con cui purtroppo il suo ultimo ricordo non è stato felice perché comunque era in un momento difficile della sua vita, proprio per il suo rapporto con il suo figlio. Ripeto, io voglio sottolineare questa cosa, questo DDL per quel che mi riguarda sarà uno sforzo per rendere onore a chi ha dato una mano sempre a chi voleva mantenere vivo il proprio rapporto con i propri figli. Grazie. Bene, grazie al collega senatore Emanuele Pellegrini. Vorrei passare la parola a un testimonial d'eccezione molto noto della TV. Posso raccontare, Tiberio, se mi permetti, abbiamo gli occhiali uguali, mi ha cercato lui nel vedere che era stato depositato questo DDL e immediatamente si è messo a disposizione convinto della bontà del testo, non ha bisogno di presentazioni. Sappiamo anche che sono anni che svolge una sua personale battaglia su questo tema. A te la parola, Tiberio. Grazie. Allora, sgombriamo subito il campo dagli equivoci. Questa per me è una legge pratica, onesta, scritta in maniera comprensibile ed è uno strumento prezioso che mi auguro venga recepito come tale dai giudici. La legge che è attualmente in vigore non è in antitesi con quella che viene proposta. Anzi, quella che viene proposta in qualche modo la amplifica ulteriormente precisando i confini di azione e di intervento. La legge del 2006 parla già di mantenimento diretto. Peccato che questo strumento prezioso non sia stato mai usato se non in maniera residuale. E allora, dal momento che è un modo bello, piacevole per un genitore che vuole fare il genitore, sia chiaro, di essere presente nella vita dei propri figli, perché uno divorzia dal coniuge ma non dai figli, è uno strumento che va usato e che in alcuni casi può evitare anche che ci siano delle rendite parassitarie. Quindi io non ho francamente compreso la levata di scudi da parte di una certa stampa che veramente mi ha dato la sensazione di avere un partito preso solo perché la legge è stata scritta e proposta da una parte politica. Questa è una legge trasversale che dovrebbe essere vista con piacere tanto da sinistra quanto da destra passando per il centro, perché è una di quelle leggi, se vogliamo, da partito radicale, calate nella realtà quotidiana di tutti quanti i giorni. Adesso, ripeto, non sono un politico, parlo da padre da una parte e giornalista dall'altra, ma è una di quelle leggi... Chiedo scusa, chiedo scusa. Insomma, io ho avuto una militanza che non rinnego. Però è una di quelle leggi trasversali, calate nella realtà quotidiana, applicabili, che fanno il bene di tante persone. E guardate che se qualcuno, forse non ha torto, poteva dire che la legge 2006 era a favore dei padri ed era stata fatta proprio così per riconoscere, era arrivata al termine di un percorso nel quale si diceva guardate che qui una parte della famiglia viene cancellata all'indomani e quindi poteva anche essere interpretata come una legge di parte che poteva poi legittimare delle aspettative che sono andate completamente deluse, perché quella in vigore è una legge, a mio modesto avviso, non sono un legislatore, lo spirito magari c'era, però è stata scritta male e applicata peggio. Questa legge marca una differenza, in questo sì un forte segno di discontinuità, perché è una legge fatta in favore esclusivo dei figli minori dei divorziati, si mette dalla loro parte, perché, ed è questa stata una mia battaglia che ho, come dire, iniziato ancora prima che voi arrivasse al governo, negli ultimi scampoli finali, io sostenni la commissione pari opportunità, il fatto che tra le varie pari opportunità che si devono tutelare ci sono anche quelle dei figli minori dei divorziati, perché se c'è uno strabismo culturale che riconosce e privilegia uno dei due genitori, il danno si fa non al genitore azionista di minoranza, ma al figlio che non vede uno dei due genitori. Per cui per me questa legge è encomiabile sotto questo punto di vista, è realmente, sinceramente, mirata alla continuità del rapporto del minore con entrambe i genitori. Relativamente, qui entro un filo nel tecnico, basandomi su quella che è stata la mia esperienza, si è fatto a molta cagnara sulla obbligatorietà della mediazione. Guardate che la mediazione, già dal 2006, in caso di giudiziale, il giudice la consigliava e nessun avvocato consigliava al suo cliente di astenersi dalla mediazione. Quindi questo è un falso problema, un falso problema che non esiste e tra l'altro va anche oltre. Perché? Perché, da quello che ho capito, viene stabilito un prezzo tra virgolette politico e non è più soggetto a libera contrattazione, perché poi alla fine, nei vari tribunali, nelle varie città, c'è sempre la stessa compagnia di giro che costa cara. E quello sì, se al libero mercato, con una mediazione non obbligatoria, che in qualche modo poi va ad attentare alle tasche. Quindi, è una legge che tenta, nello spirito, e correggetemi se sbaglio, di evitare che si inneschino quelle tensioni, quelle violenze, che possono poi sfociare in qualcosa di brutto. Perché quando uno decide di separarsi, attraversa un deserto, una terra di nessuno, prima che arrivi la presidenziale, e in quella terra di nessuno si consumano le peggiori nefandenze. Quindi questa non è una legge, è un estintore, per certi versi, che cerca di spegnere sul nascere dei focolai di tensione. Forse sarà perfettibile, non lo so. Certo è che il governo Renzi ha portato a casa il divorzio breve, e già questo è un passo. Io mi auguro che questo esecutivo riesca a trovare trasversalmente la massima adesione, realmente nell'interesse esclusivo del minore, come da tanto tempo, troppo tempo si dice. E poi, ma questo è un mio personalissimo sogno, faccia quell'ultimo passo, quello scatto di reni, con i patti prematrimoniali per il matrimonio civile, che, visto che il senatore Piloni ha detto abbiamo preso molte cose mutuate dal resto dell'Europa, bene, anche nel resto d'Europa, per il matrimonio civile, ci sono i patti prematrimoniali. E a quel punto, quando ci si sposerà, quando ci si separerà, saremo tutti quanti più sereni perché tutto quello che doveva essere scritto è stato scritto prima. Per cui, grazie per la sensibilità che avete dimostrato e in bocca al lupo a questa vostra creatura, che speriamo possa vedere la luce, così come l'avete pensata. Grazie, grazie a Riberio Timperi. Ma io su questo, intanto ringrazio l'intervento, su questo aspetto, lui lo sa, ne abbiamo discusso in privato, dei patti prematrimoniali, viva Dio, non sono d'accordo perché significa andare a sposarsi, sapendo già che ci separeremo, ci stiamo promettendo amore eterno. Allora forse, ma su tutto il resto ovviamente condividiamo, perché porre al centro l'interesse del minore passa per forza attraverso un'alternativa. O decidiamo che i giudici sono capaci di determinare loro il superiore interesse del minore e allora facciamo una delega in bianco ai giudici per deciderlo di volta in volta. Oppure decidiamo, come credo, che le uniche persone davvero in grado di determinare l'interesse superiore di quel minore sono le due persone che lo conoscono meglio al mondo, il papà e la mamma. Grazie Tiberio, buon lavoro e grazie di essere intervenuto. Lascio la parola a Ernesto Emanuele, che è un po' uno storico dell'associazionismo in materia di famiglia, in materia di separazione e quindi è importante che ci dica due parole sulla sua esperienza e su come vede che verrà trattato poi questo DDL. Vorrei che si unisse, visto che si è liberato un posto, a questo tavolo Maria Bisegna in rappresentanza delle nonne e in rappresentanza anche del gentil sesso. Grazie. Ho vissuto il passaggio tra la 155 e la 54 e mi meraviglio ancora come nella 155 si dicesse che un genitore educava e l'altro controllava a distanza, se non era d'accordo andava al tribunale. Ma questo è educare in due. Nella 54, criticabile, criticabilissima la nuova legge del 2006, si dice che i genitori educano in due, ma è un passaggio, ma c'è voluta una legge per dire che si educa in due. Allora, ho letto molte critiche a questo progetto di legge, perfettibile, senz'altro perché non è perfetto. Il senatore Piloni è apertissimo a questa modifica. Ecco, ma non facciamo lo sbaglio come associazioni di dividerci, di dividerci. C'è un progetto di legge e cerchiamo di migliorarlo tutti assieme. Io volevo sfatare, avendo 30 anni di esperienza di separazione, 29 anni di esperienza di associazioni, una cosa che non si dice mai sui parchi postali. Con la proposta di legge i figli saranno meno parchi postali, perché i tempi non ci sarà più che stanno con il papà dalle 18 alle 22, ma stanno con il papà dalle 18 al mattino dopo. Quindi avranno questi tempi, i parchi non saranno, saranno meno parchi postali, non avranno quest'ansia di uno che abita da una parte di Roma e dall'altra parte, l'altro genitore, di correre avanti e indietro. Se noi allunghiamo i tempi, li parifichiamo, siamo meno parchi postali. Quindi questa qua che si dice dei parchi postali è una cosa di persone che non sanno cos'è la separazione. Noi come papà separati, come famiglie separate cristiane, condividiamo questa legge nei limiti che venga migliorata e che soprattutto non puzzi assolutamente di rivendicazioni. La vecchia legge è una favore delle donne e questa qua deve essere a favore dei padri. No, avremmo sbagliato stato. Questa legge mi sembra che sia molto per i figli su cui noi lottiamo. Ecco, io sono padre di tre figli, due di questi hanno in barba i tribunali, sono venuti a abitare con me. Ecco, io credo che dobbiamo cercare di fare un discorso organico, collaborando tutti assieme, perché questa qua è la volta buona, è la volta buona in cui facciamo in Italia non una legge affrettata ma una legge ben fatta e l'esperienza di Simone che conosco da una vita, lo sopporto da una vita. No, anche io, reciproco la sopportazione. Ecco, guardate, io credo che sia veramente importante questo, andare avanti in questa maniera, migliorandola ma non pensando che si fa una legge maschilista. È una legge che è per i figli. I figli hanno diritto di, sono stati fatti da due genitori, hanno diritto di stare con entrambi i genitori. Questa è la sostanza del discorso. Io credo che sia importante che anche loro partecipino i figli e partecipino anche le nonne, che ho qua una nonna presente. Ecco, il portare fuori dai tribunali la lite, portare fuori dai tribunali la lite, fare un percorso preventivo obbligatorio che determina l'accordo. L'accordo si fa prima, non si fa in tribunale in cinque minuti. Ecco. Bene, grazie. Grazie Ernesto Emanuele. Un applauso meritatissimo. Vorrei lasciare due parole a Vincenzo Spavone, che è responsabile della bigenitorialità per il gruppo della Lega. Prego. Sì, ma anche il presidente della GESF, genitori separati dai figli, oggi Fondazione Europea, nata nel lontano 1994, altro secolo, altra storia. Però fin da allora noi partimmo con due slogan che oggi sono sulla bocca di tutti. Il primo recitava i figli orfani di padre vivo, l'altro recitava né mio né tuo e nostro figlio, quello che poi ha portato alla nascita della cultura della bigenitorialità. Il diritto del bambino non è separato dai propri genitori ed è il motivo per cui noi siamo qui a oltre 25 anni di attività a sostenere questa riforma è perché proprio di bigenitorialità parliamo e non di papà o mamma, ma del diritto del bambino a stare con i propri genitori. Ora, essendo noi papà e mamme che frequentano l'associazione, quindi comuni mortali che vanno anche a fare la spesa, l'altro giorno rifletteva su un'offerta che c'era al supermercato mi aveva in mente la famosa battuta che con la riforma Pilon prendi quattro e paghi uno. Perché questo? Perché sebbene il pagamento della mediazione obbligatoria è irrisoria rispetto ai costi di una separazione confittuale, solo chi ha vissuto per decenni nelle aude tribunali sa quanto costa un avvocato, uno psicologo, un CTP, un CTU e tutto quello che gira intorno. Mentre con poche sedute di mediazione obbligatoria, tra cui la prima seduta è addirittura gratuita, voi capite quanto si risparmia da questo punto di vista. Però porti a casa quattro importanti risultati, in primis la bigenitorialità, perché quando tu dai ai due genitori i stessi tempi di frequentazione hai dato la qualità, oltre che la quantità di rapporto con l'altro genitore. Porti una sorta di mantenimento diretto, che anche quello è causa di tanta confittualità, porti a casa recuperazione dei tempi e soprattutto vai a fare un serio contrasto a quello che è l'allenazione genitoriale, che chiunque vive in questo mondo piccolo ma affollato di persone conosce sulla propria pelle. Ora sono solo due mesi che noi abbiamo proposto al Paese questa riforma e non ti nascondo caro senatore Piloni che ero un po' preoccupato, perché non vedevo all'orizzonte le truppe cambellate, non vedevo all'orizzonte i nostri detrattori, anche se ultimamente stanno arrivando. Il Presidente lo citava. E devo ringraziare una delle nostre nemiche storiche, che però è sempre stato il nostro migliore sponsor, la Bernardini De Pace, che finalmente è uscita allo scoperto, ci è venuto contro, ma per noi rappresenta una sorta di mascotte, perché quando interviene la Bernardini De Pace noi andiamo sempre a meta. Poi sono arrivate ultimamente le truppe cambellate delle femministe e lì si evidenzia lo scontro non politico, ma culturale, tra due mondi, tra quello che considera il primario interesse della donna, non nemmeno il genitore, parlano di autodeterminazione della donna, di libertà della donna, e il mondo di genitore che parla di bigenitorietà, cioè il diritto del bambino a stare con tutti i due genitori, perché per loro la bigenitorietà è l'attentato all'autodeterminazione della donna. Spiegatemi che accidento c'entra in questo contesto. Ora, se queste sono le argomentazioni, al di là del momento storico che stiamo vivendo, un contratto di governo con due forze di governo che hanno la maggioranza in Parlamento, beh, se quelle sono le accuse che ci vengono fatte, beh, noi vinceremo in partenza. Detto questo, le associazioni storiche sono mobilitate, diciamo, in prima linea a sostenere il... Grazie, grazie a Vincenzo. L'obiettivo, francamente lo dico a precisazione, ringrazio Vincenzo per la sua passione, l'obiettivo è quello che vincano i bambini, non deve vincere o perdere il papà, la mamma, la Lega. Qua dobbiamo fare in modo che vincano davvero i bambini. Dove la Lega vince per altre ragioni? Anche per questa, perché sa parlare con le persone, perché sa raccogliere davvero le esigenze delle persone. Prima di lasciare la parola a, brevemente, a Maria Bisegna, brevemente, brevemente, vorrei dare un saluto, però, a ciascuno di voi che siete qua. Mi permetto di chiamarvi uno per uno, perché siete persone che venite da tutta Italia, che avete speso tempo, denaro, risorse, energie, per darci una mano e per essere qua presenti oggi. Quindi il minimo che io possa fare, oltre a ringraziarvi personalmente e anche a nome di tutta l'equip che ha lavorato attorno a questa proposta di legge, è quello di nominarvi presenti e, soprattutto, di chiedervi di starci vicini. Adesso inizierà il tempo delle audizioni. Abbiamo bisogno di consigli leali. Non vogliamo, ovviamente, parlare con chi dice che la legge è tutta sbagliata. Ha una concezione antropologica differente dalla nostra e non perderemo tempo. Ma a chi ci offra consigli leali, già ne ho ricevuti diversi. Ci sono alcuni passaggi che, evidentemente, ci erano sfuggiti, perché non siamo perfetti neanche noi. E quindi, ben graditi consigli e quant'altro. Allora, io spero di non dimenticare nessuno. So che è presente in sala, quindi sentitevi nominati anche in virtù della rappresentanza associativa che ciascuno di voi porta o della propria esperienza o delle proprie capacità. Federico Ansini, Gerardo Avallone, Lilia Zevedo, Maria Bisegna, Walter Buscemi, Giorgio Ceccarelli, Mirko Ciminiello, Maria Rosaria della Corte, che ringrazio specialmente, perché era stata chiamata in TV per fare da contraltare al nostro DDL e devo dire che ha sottolineato alcune criticità con grande serenità e lealtà. E quindi, anche quando vengono da chi in teoria è messo lì per contrastare, i consigli sono sempre ben accetti quando sono fatti da persone professionali, preparate, come appunto la collega. Ernesto Emanuele, Rita Dell'Alena, Mario Masi, Stefania Pastacci, Enrico Pettinelli, Carlo Piazza, l'amico Carlo che ha collaborato tantissimo con noi nella stesura di questo testo e che ringraziamo per essere qui vicino a noi, Alessandra Principe, altrettanto, collega romana che tanto si è spesa, Paola Re, Massimo Rosselli del Turco, con il quale, dove è finito? Non lo vedo, ci siamo confrontati più e più volte, Gianni Sciannarella, Gianpaolo Scuderi, Sabrina Sifo, Vincenzo Spavone, Tiberio Timperi, Domenico Fumagalli, papà e coraggiosissimo attivista in quel di Milano, sostiene i papà separati, ma no parole, coi fatti, mettendo a disposizione risorse, appartamenti, strutture, è davvero un coraggioso. l'amica Sara Pezzuolo, che anche lei ci ha aiutato molto a lavorare su questo testo, Emanuele Ruffini, Giuseppe Zavaglia, Lucilla Anastasio, Antonella Florita, e Andrea Carta. Spero di avere nominato tutti, ringrazio ovviamente anche i giornalisti presenti in sala. Lascio due minuti la parola all'amica Maria Bisegna e vorrei che poi due minuti intervenisse in qualità di rappresentante l'associazione dei mediatori, giusto? Perfetto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio il senatore Pellon di questa mia possibilità, di far conoscere anche la nostra associazione che da diversi anni è sulla battaglia dei diritti dei bambini e di avere rapporti continuativi con i propri nipoti. Io sono Bisegna Maria, associazione Nonne e Nonni penalizzati dalle separazioni, perché dopo la separazione purtroppo per conflittualità di coppia i nonni non sempre vengono a contatto con i propri nipoti. L'affido condiviso, che è la prima legge che noi abbiamo fatto votare e abbiamo fatto anche volantinaggio qui davanti al Senato nel 2006, c'era l'articolo 155 che prevedeva il ramo parentale. questo articolo 155 vedeva il ramo parentale fino alla quarta generazione e quando si andava in tribunale dicevano che i nonni non avevano diritto perché non c'era scritto da nessuna parte. Con la senatrice Alessandra Galloni abbiamo fatto un'istanza, un'interrogazione parlamentare e abbiamo fatto fare la legge 219 del 2012, il diritto dei bambini nei confronti dei nonni e è passata questa legge ma quando i nonni si presentavano in tribunale per chiedere il diritto le lungaggine dei tribunali con gli assistenti sociali andavano alle lunghe e i nonni purtroppo anziani non vedevano questi bambini perché devono fare il calendario per far vedere i bambini e a un certo punto i nonni vengono a morire. Grazie. No, aspetta. Per chiudere? Io ma lo sapevo, ti conosco. Allora, che cosa succede? Che anche i nonni delle volte vanno davanti a scuola per poter vedere quell'emozione del bambino che va a scuola col gremiulino li fanno gli esposti. Questa cosa non deve esistere perché il nonno ha il diritto adesso se i due genitori fanno le libri Il bambino ha il diritto di stare con il nonno Anche il bambino Il bambino ha il diritto Il bambino che ha il diritto Però anche il nonno ha il diritto di avere Cioè il bambino come fa a difendersi da solo che va a chiedere il diritto Anche il nonno Eh, mamma mia Anche il nonno Anche il nonno Che cosa succede? Che io chiedo al senatore Pillon di inserire dentro la separazione Il diritto del bambino ad avere i contatti continuativi con i propri nonni Con i propri nonni L'abbiamo proprio inserito per te Perché hanno tolto i bambini al tribunale dei minori e hanno portato all'ordinario e diventa sempre più complicato Maria, grazie 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 davvero Non ho citato nei ringraziamenti non ho citato Silvia Fidanza Nicoletta Lettieri e Guerrino Maestri Ecco scusate C'è qualcun altro che non ho citato? No, citato tutti Allora prima di lasciare la parola all'amica dell'Associazione dei Mediatori vorrei fare una piccola precisazione parlando prima appunto anche con il con il presidente Romeo ripeto il mantenimento diretto sarà su base proporzionale quindi il 50% sarà qualora effettivamente i redditi dei due e i tempi realmente condivisi siano tali da poter assegnare al 50% è chiaro che la proporzionalità sarà rispettata qualora i redditi siano maggiori di un terzo sarà maggiore di un terzo la contribuzione questo per opportuna precisazione come detto prima prego la parola buongiorno grazie senatore Pillon per questa opportunità io sono il presidente dell'IMEF Associazione Italiana Mediatori Familiari ma sono innanzitutto anche componente come associazione della federazione italiana delle associazioni di mediazione familiare di cui oggi qui è presente la nostra coordinatrice Paola Re e sono associazioni che si sono adesso impegnate con il senatore Pillon per dare un contributo soprattutto scientifico esperienziale di tutta l'attività che in questi oltre 20 anni hanno svolto i mediatori familiari nel nostro Paese io ringrazio il senatore Pillon perché mette al centro con questo disegno di legge la mediazione familiare quindi per noi è una grande soddisfazione e ce lo siamo detti anche nella riunione di un mesetto fa la cosa e quindi noi ecco io mi rivolgo a lei noi siamo pronti già a dare il nostro contributo da un punto di vista scientifico esperienziale è già pronto una piccolissima visto che abbiamo parlato nel merito anche del disegno di legge il primo incontro obbligatorio informativo ma la mediazione familiare obbligatoria perché tra tante inesattezze che sono state dette e mi permetto di precisare questo non può essere svolta quindi l'obbligatorietà e su questo nel nostro contributo poi motiveremo è che il primo incontro informativo sarà obbligatorio o prevediamo o consiglieremo io mi fermo qui grazie senatore ci siamo grazie grazie davvero allora io sono verso le conclusioni questa precisazione era importante come torno a ripeterlo c'è stato detto due volte lo diciamo la terza qui non si vuole far cassa sulle famiglie che si stanno separando anzi si vuole fare in modo che attorno alla famiglia che si separa che va in crisi si crei un pool di persone che aiutano i coniugi a evitare il tribunale a evitare il contenzioso giudiziario tutto questo passa anche e lo dico da avvocato attraverso la formazione delle categorie professionali in questo DDL non abbiamo ancora inserito e non lo so se riusciremo a farlo con gli emendamenti la questione della specializzazione degli avvocati in diritto di famiglia la questione delle sezioni specializzate in diritto di famiglia dei tribunali la questione della formazione permanente dei servizi sociali che sia una formazione adeguata capace di venire incontro davvero alle esigenze della famiglia e che non porti come purtroppo qualche volta accade a colpevolizzare la famiglia e addirittura a esiti poi devastanti per i minori però voglio specificarlo perché anche questo è stato oggetto di un attacco francamente calunioso da questa norma noi vogliamo ottenere che i bambini non siano più portati negli istituti tant'è vero che se voi andate a leggere il testo della legge anziché leggere Repubblica leggete il testo della legge lo dico a tutti andate a leggere e troverete che mentre oggi con la riforma voluta dal vecchio governo il giudice può mettere i bambini negli istituti questa non sarà più possibile questa opzione non sarà più possibile e i bambini che si troveranno in situazione terribile in cui i genitori non sono più idonei a averli in casa perché hanno perso il lume della ragione a causa della loro lite saranno affidati ai nonni saranno affidati a nuclei familiari di parenti e se non fosse possibile questo saranno affidati a nuclei familiari del territorio ma non agli istituti e non mangeranno più gli istituti andranno in malora non lo so non è un nostro problema bene io ringrazio tutti della presenza ora se ci sono domande specifiche da parte di giornalisti non accetteremo show da parte dei soliti noti che vengono qua fanno la ripresa poi mandano a chi gli pare a loro che fa un montaggio dal quale risulta che tutta la conferenza stampa era lo show del solito noto tanto per essere chiari Repubblica Espresso quindi se ci sono giornalisti di Repubblica Espresso in sala possono fare la domanda come tutti gli altri e avranno una risposta se vogliono fare una conferenza stampa se la convocano vediamo quante persone vengono e poi ne parleremo grazie e se ci sono domande a voi la parola ti lascio in piazza grazie a tutti